Eccomi! Sei pronta a torturarmi? Sì! Ed eccoci al backstage di qui adesso con Massimo Ranieri. Non devi avere paura, Massimo. Viste le cose che hai fatto, è come la te e i miei colleghi. Massimo, tu sei un attore di cinema, un attore di teatro, un conduttore televisivo, un doppiatore, un regista, un ballerino, un giocoliere, ma lo sai che ogni volta che vieni scritturato tu almeno sette, otto artisti restano a casa? No! Sì, rubi il posto a tutti, è troppo bravo quest'uomo! Ma lascia quello, dai, lascia quello. Guarda, è la fortuna che non ne nascono più di persone come te e quindi le persone come me ce la fanno a lavorare, se no... Vabbè, ma parliamo della tua musica. Allora, tu sei sempre stato un uomo attento alle problematiche femminili. Per noi donne hai cantato una canzone come Candida. Io ti ringrazio... Come fai a ricordartela? Eh no, no... Per me ti chiami Candida? Candida, Candida, proprio sulle problematiche intime femminili. Io ti ringrazio a nome di tutte le donne. Hai il coraggio anche di cantare una canzone, ad esempio, che ne so, sulla maledetta ricrescita. Perché nessuno lo dice, ma è veramente un problema per noi donne di una certa età, no? Nel 1970 tu ti presentavi a Canzonissima con la canzone 20 anni. Cioè, cantavi 20 anni e avevi 19 anni. Esatto. Come mai? Hai fatto la primina? Ho fatto la primina, sì. E nella tua carriera hai venduto più di 14 milioni di dischi. Super giù, super giù. Cioè, ma hai sempre fatto lo scontrino? Guarda che gira la finanza. L'hanno fatto lo scontrino. Tu, come ogni napoletano, sei scaramantico, no? Beh, sì. E quindi io ho notato, perché seguo sempre i tuoi concerti e tutto quello che fai, che ogni volta che tu fai un concerto, stringi tra le mani il microfono. E quello è il tuo portafortuna? È vero che una volta che tu non avevi il microfono, la voce non si è sentita? Ovviamente non si è sentita, purtroppo. Massimo, da piccolo... Per questo lo stringo nelle mani bello forte. Massimo, da piccolo ti sei guadagnato da vivere facendo svariati lavori, garzoni di panettiere, fattorino, ragazzo di bottega, commesso, barista, intrattenitore alle cerimonie. Idraulico no? No. 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 Idraulico no. C'è sempre tempo. Peccato. No, peccato. Sei perché io a casa ho la cassetta del bagno, che non scarica bene, sarà il galleggiante, probabilmente il calciante. No, perché se capivi un po' di idraulica, niente. C'è mio fratello però che... Tuo fratello? Che lo faceva, sì. Ma lo chiamo e viene? Ti do il telefono, sì, lui viene. Perché secondo me pure De Gregori può essere che... Tu dici? Col cappello lo fa tutti i lavori. Lo vado. Che dici? Glielo chiedo. Finisce qui l'intervista a Massimo Ragneri. Restate con noi. La tortura. No. Dai, sono stata brava. Sei troppo bella, sei troppo bella. Buona. Sei troppo bella. Ma io ho puntato tutto sulla bellezza. Prima ero nel corpo di ballo, ma poi mi hanno segato quelle là. Quanto sei bella.